Buongiorno da Michela Bagatella dalla WebTV di Plenair. Questo è lo stand della Pursle, il marchio europeo che ha saputo rivitalizzare la tipologia del camper puro, reimponendolo all'attenzione di tutto il mercato europeo. Idea centrale è che i mezzi siano qualcosa di più di un camper, fungendo anche da auto per il carico di oggetti e attrezzature dalla zona posteriore. Veicoli comunque confortevoli e accoglienti, con ricche dotazioni e accurata lavorazione. Numerosissimi i modelli, studiati per coppie e famiglie, a partire dai 5,40 m fino ai 6,36 di quelli da Gran Corcera. Il Revolution, da 6,36 m, è omologato per quattro posti viaggio e ha un residuo carico notevole di oltre quattro quintali. Monta indifferentemente su Ducato o Citroen Jumper. Di serie, il portellone a chiusura assistita. Adatto a equipaggi numerosi, introduce un grande matrimoniale longitudinale posteriore ad altezza variabile, regolabile elettricamente per ottimizzare la fruibilità del vano di carico, ma anche per l'aggiunta di un secondo letto opzionale. Il mezzo ha una confortevole semi di net per quattro posti. Una cucina pratica e funzionale sul lato portellone con piano ad aletta pieghevole e vanno a toilette centrale con porta girevole a scomparsa. Qual è la vera innovazione di questo Revolution? Andrea Bertinotti, concessionario Pursle Nord Affari. Revolution è il primo della gamma Pursle costruito sul tetto H3 originale Fiat. Ed è l'unico sul mercato che offre due letti matrimoniali longitudinali sovrapposti, di cui quello superiore a regolazione elettrica, mentre la concorrenza offre sempre questa soluzione sul tetto H2 che non lascia sicuramente la stessa vivibilità e anche aumenta lo spazio di stivaggio nei pensili. Nasce per gli sportivi che devono caricare attrezzature costose e voluminose nel bagagliaio. È l'unico che vi offre il telaio passo lungo 6,36 metri su questa pianta. Grazie.